buongiorno buongiorno a tutti quelli a tutti i presenti grazie di essere presenti e buongiorno anche a quelli collegati che non vedo ma che sicuramente ci stanno ci stanno seguendo una brevissima presentazione sottoscritto si occupa normalmente di serramenti e di tutto quello che intorno al mondo del serramento soprattutto per quanto riguarda le indagini termografiche accessi agli incentivi e quant'altro mi occupo purtroppo troppo spesso anche vorrei dire di contenziosi che poi sorgono intorno al serramento e di questo vi chiedo scusa ma metterò una certa enfasi sul discorso del fatto che quando le cose van bene van bene quando non van bene qualcuno ci deve lasciare qualche soldino cominciamo un po da lontano giusto per introdurre l'argomento quando si parla di risparmio energetico in edilizia non possiamo fare a meno di partire dal presunto dal fatto che almeno il 14 milioni di italiani vivono oggi in condominio il patrimonio edilizio italiano hanno costituito essenzialmente di condomini e si è formato nel tar del dopoguerra negli anni 60 70 80 oggi ci troviamo quindi con un costruito fatto con certe regole con certi materiali da quando si è cominciato a parlare di risparmio energetico con tutta una serie di incentivi al risparmio energetico che sono cominciati già dal 2000 dal 2006 se facciamo un bilancio lo troviamo abbastanza sconfortante abbiamo investito tanto su interventi sostanzialmente marginali come serramenti e caldaie che sono quelli che danno meno risparmio in termini di unità monetaria investita è chiaro che convincere i condomini è più difficile che convincere i singoli convincere fare un intervento di sostituzione dei serramenti lo facciamo domani mattina e convincere a fare un cappotto la cosa è più difficile ma è evidente che se il risparmio passa dai condomini i condomini dobbiamo colpire quindi era evidente che servisse un cambio di passo cambio di passo che è noto a tutti è stato con l'introduzione del 110 per fare risparmio energetico in edilizia sul nuovo dovremmo sapere tutti cosa c'è da fare giusto quindi come inserire un serramento in una parete e come costruire per bene una parete sul nuovo non ci dovrebbero essere problemi dico non ci dovrebbero essere perché poi in realtà queste sono due termografie di nuove costruzioni dove evidentemente qualcuno ha sentito i rumori ma non ha capito le parole per cui costruzioni nuove conciate in questo modo e sono evidentemente inaccettabili diciamo però torniamo a dire che sul nuovo dovremmo sapere tutti cosa fare abbiamo tutte le libertà per farlo sull'esistente le cose sono decisamente diverse andare a mettere mano sull'esistente vuol dire avere dei limiti geometrici da rispettare condomini costruiti negli anni 80 il rapporto aereo illuminante era tirato fino all'inverosimile quindi tre centimetri di spalletta non te li posso dare se non scendo sotto il RAI ho la logistica dell'intervento da rispettare nel senso che fare il cappotto entrare in giardino fare il ponteggio tutte cose che a inizio cantiere non mi preoccupo ma su un cantiere dove ci abita la gente è un problema serio terzo può darsi che mi trovi elementi strutturali che non posso andare a correggere se la finestra si appoggia al pilastro il pilastro non lo posso né spostare né demolire e poi non dimentichiamoci che ci sono delle regole condominali per cui se un condomino ha acquistato una unità immobiliare fatta in un certo modo potrebbe opporsi al fatto che questa venga stravolta per ragioni di qualsiasi tipo c'è un decreto requisiti minimi del 2015 che classifica gli interventi in funzione del fatto che siano nuove costruzioni che siano ristrutturazioni importanti che siano mere riqualificazioni energetiche e poi le ristrutturazioni importanti me le divide quelle importanti importanti e quelle importanti un po' meno importanti quindi di primo e di secondo livello la distinzione doveva essere temporanea sono solo sette anni che c'è e quindi probabilmente destinata a diventare queste cose temporanee che poi rimangono definitive per cui diciamo che ci sono le ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello per ciascuna di queste è previsto un diverso modus operandi la distinzione tra il primo e il secondo livello che comporta poi delle verifiche diverse è fatta sulla superficie interessata cioè se lavori su più del 25 per cento finisci in primo livello se lavori più del 50 finisci in secondo livello personalmente la ritengo una stupidaggine voi mi insegnate che le vere opportunità di intervento non sono legate alla percentuale di edificio di superficie dell'edificio coinvolta la vostra libertà di intervento come progettisti è davvero legata al fatto che ci sia un inquilino dentro o che ci si possa entrare liberamente è evidente che se c'è l'inquilino in casa certe soluzioni per quanto belle per quanto splendide non le si può non le si può fare purtroppo la legge è fatta sulle percentuali per cui a quella ci dobbiamo attenere è evidente che in presenza di dell'occupante non si potrebbero non si potranno mai mettere in atto tutte le cose che servirebbero per l'accesso all'eco bonus sono stati definiti dei limiti di trasmittanza delle pareti dei limiti di trasmittanza dei serramenti dei limiti di trasmittanza medi complessivi che fanno un po' a pugni con il decreto requisiti minimi perché nel caso del decreto requisiti minimi devo rispettare anche la presenza dei ponti termici mentre per il 110 si è deciso che i ponti termici li possiamo anche non considerare risultato tutte le volte il progettista deve fare il bilanciamento tra ci sto nello 023 della zona climatica e sì ma ci sto anche nello 028 considerati i ponti termici e spesso i conti non tornano sarà esperienza comune che riesco a fare una parete splendida poi quando ci devo mettere la considerazione che esistono anche i ponti termici perché sono previsti nel decreto requisiti minimi non ci sto oltretutto sempre per il decreto requisiti minimi quando vado in ristrutturazione quindi di primo o di secondo livello devo rispettare anche la caprimoti quindi la trasmittanza media della parete oggetta di intervento poi qui si sono inventati anche il discorso che in realtà la media la devo fare per proprietario quindi la facciata è di proprietà condominiale il serramento è di proprietà privata il ponte termico non si sa bene se va considerato non va considerato quando parliamo di ponti termici tutte cose note vero almeno i presenti tutti i problemi in cui ci imbattiamo tutti i giorni no la caprimoti come cavolo faccio farlo tornare non mi torna ci devo considerarlo oppure no quando parliamo di ponte termico ebbene tenere sempre in considerazione che stiamo parlando di un elefante che a seconda di come lo guardo si presenta in modo diverso per un termotecnico il ponte termico è quel numerino psi che gli serve per far tornare i conti cioè per calcolare esattamente quanto esce da una parete costituita da due elementi diversi superficie per trasmittanza di ciascuno degli elementi sommatoria più il ponte termico tra i due elementi è un numero può essere maggiore di zero può essere minore di zero alla fine la somma degli elementi più il ponte termico deve fare il totale delle dispersioni se il ponte termico è anche quel punto dal quale esce più calore del dovuto indipendentemente dal numero psi calcolato secondo certe convenzioni da un ponte termico normalmente esce più calore di quanto non vorremmo che uscisse in più sul lato interno del ponte termico si forma un ponte freddo un punto freddo per costui ripeto è semplicemente un numero se lo calcola fa una bella simulazione agli elementi finiti lo mette nelle sue sommatorie e calcola il totale delle dispersioni per lei il problema è diverso a lei non gli entrega niente del numero ma gli interessa a lei interessa che non ci sia un punto freddo nella sua abitazione perché se c'è un punto freddo prima o poi il si rischia che si formi la muffa e non c'è niente di peggio per una persona che a cui ha sconvolto la vita per due mesi facendogli rifacendogli tutta l'abitazione trovarsi poi a dire eh sì ma c'è la muffa e si sa che il capotto fa la muffa e si sa che poi il terzo aspetto laddove esce più calore del dovuto sarà un problema per l'impresario per e per il committente che potrebbe non riuscire ad avere accesso agli incentivi ecco io insisto teniamo sempre presente il fatto che il ponte termico presenta questi tre aspetti diversi perché non sono tra di loro sempre necessariamente collegati con una certa scelta delle convenzioni il termotecnico può arrivare ad avere un ponte termico negativo ma ciò non esclude che ci possa essere un punto freddo il termotecnico può riuscire a trovare a calcolare un ponte termico negativo ma ciò non esclude che da quella parete esca più calore del dovuto dobbiamo sempre tenerlo presente il giunto di posa tra serramento e parete è sempre un punto di discontinuità termico il nostro obiettivo di termotecnici di ehm progettisti nel campo edile è quello di ridurre al minimo tutte e tre gli effetti che conseguono alla presenza di una discontinuità nell'isolamento che è necessaria è nelle cose prima c'era il muro trasmittanza 0 2 adesso un serramento se va bene trasmittanza 1 e 2 tra i due è chiaro che ci sarà una discontinuità e quindi dovremmo andare a vedere tutte e tre i problemi che non ci sia troppa uscita di calore indesiderata che non ci sia punti troppo freddi dove si potrebbe formare la muffa per la signora che poi si incazzerebbe contrariamente a quanto tanti miei colleghi purtroppo pensano non è possibile rimediare a errori concettuali con la presenza di una schiuma più bella una benda più bella un'auto espandente migliore un silicone ultima generazione se il progetto di posa è sbagliato il punto termico il ponte termico ce l'hai e te lo tieni qui hanno messo un controtelaio in acciaio il serramentista poteva metterci la schiuma la benda la banda ma lì c'è un punto freddo punto qui il muratore ha collegato con una zanca l'esterno e l'interno della parete a cassa vuota e poi ci ha messo anche un bel blocco un bel boccone di malta benissimo lì c'è un punto freddo non ci sono santi che tengano qui hanno deciso di non tagliare la soglia della porta finestra io ci posso mettere quello che voglio sotto la mia soglia della finestra della porta finestra ma se sotto c'è un bancario di marmo passante il ponte il ponte termico c'è il punto freddo ce l'ho quindi abbandoniamo l'idea come progettisti che sia sufficiente affidare il montaggio a qualche posatore certificato a qualche posatore che ha fatto il corso di primo di secondo di terzo e anche di quarto livello sperando che ci siano materiali magici o il giunto di posa è stato progettato correttamente oppure non ci saranno soluzioni da mettere in atto in sede di posa in opera che possono risolvere il problema se il disegno di posa è sbagliato il ponte termico è garantito c'è una norma la 11 673 che dice che cosa si fa per calcolare per analizzare la bontà del giunto di posa ci dice che dobbiamo calcolare l'upsi dobbiamo calcolare le fsri dobbiamo calcolare qual è la temperatura minima esterna accettabile sono dati progettuali che si ottengono con un bel giro gli elementi finiti di cui forse sono nel caso che stiamo troppo a parlare ma almeno quindi non entreremo nei dettagli di calcolo di questa roba qui con una piccola attenzione noi adesso non abbiamo tempo per fare i dettagli di calcolo sappiate che se poi mi chiamate se poi mi chiama la signora per farvi perché già ha la muffa sono i calcoli che io farò per dimostrare che voi non avete fatto il vostro mestiere occhio possiamo anche far finta che adesso non abbiamo tempo per farli ma sinceratevi che qualcuno questi calcoli li abbia fatti perché se poi mi fate un montaggio come questo un bel montaggio di un serramento in pvc trasmittanza 1.0 e poi me lo montate su un controtelaio in ferro viene montato su un controtelaio in ferro mi lasciate un ponte termico da 0 5 watt al metro lineare più o meno 0 5 watt al metro lineare applicato su tutti i sei metri lineari del serramento fanno sì che quel serramento da trasmittanza 1.0 che mi è costato due patrimoni in realtà non funziona non funziona perché il calore non passa dal serramento ma passa dal ponte termico un sistema di posa come questo che mi lascia un punto freddo a 12.7 gradi o addirittura un punto in cui può entrare l'umidità ancora a temperatura più bassa è sicuramente un giunto di posa a rischio muffa questo per esempio invece è decisamente un sistema di posa migliore notate che il punto più freddo è a 18.7 gradi quindi praticamente questo funziona quell'altro lo faccio rivedere il punto più freddo era a 13 gradi qui si forma la muffa qua non si forma la muffa o meglio qua si forma la muffa solo quando l'inquilino si tiene il 100% di umidità in casa quindi dobbiamo dar per assodato che i ponti termici vanno azzerati che qualcuno li deve calcolare e qualcuno si chiama progettista termotecnico quindi la progettazione è una fase necessaria non basta affidarmi al serramentista tal dei tali o al costruttore tal dei tali sperando che loro sappiano quello che c'è da fare ogni cantiere andare a correggere i ponti termici su questa facciata a Copenaghen è diverso che andare a correggere i ponti termici su quella facciata a Siracusa è il nostro mestiere di progettisti il progetto si fa per adeguare quelle che sono le regole generali al caso particolare questo però non ci deve sconfortare troppo ci sono delle regole fondamentali che io chiamo le lettere dell'alfabeto rispettate le quali possiamo tranquillamente dire che le cose grosse le abbiamo tolte prima lettera dell'alfabeto mettiamo il giunto di posa quindi il piano di posa del serramento sullo stesso piano dell'isolamento se ho una parete isolata al centro metterò il serramento al centro se ho una parete isolata all'interno metterò il serramento all'interno se ho un serramento posato se ho un isolamento pensato all'esterno metterò il serramento all'esterno se disgraziatamente mi trovo che l'isolamento all'esterno e il serramento all'interno dovrò raccordare se la montagna è Maometto se la montagna non va a Maometto faremo sì che Maometto metta i sandali e vada alla montagna quindi da dove non si può spostare il serramento prolungheremo l'isolante che quello poi è il caso tipico delle nostre ristrutturazioni condominio esistente, serramenti montati a filo interno andiamo a fare il cappotto dobbiamo necessariamente raccordare la spalletta in modo da portare l'isolamento fino sul piano di posa seconda lettera all'alfabeto i davanzali vanno tagliati il davanzale va tagliato con un taglio termico adeguato che arrivi fino alla giusta profondità è più facile se dobbiamo comunque cambiare le soglie non dimentichiamo che se dobbiamo andare a metterci 12 cm di cappotto le soglie vanno comunque adeguate per cui comunque sulle soglie qualcosa dobbiamo fare è più difficile correggere questo ponte termico se non vogliamo cambiare le soglie per capirci facciamo un intervento alla chi se ne frega facciamo il cappotto allunghiamo allunghiamo la allunghiamo la il davanzale e non tocchiamo per niente il ponte termico avrò un ponte termico da 0,48 W al metro e una temperatura interna che è la metà media tra interno e esterno cioè vuol dire che qua avrò 10 gradi 10 gradi vuol dire garantire che o c'è sotto un calorifero e allora mi va bene la dispersione ce l'ho ma non ne vedo gli effetti ma se non ho sotto il calorifero lì si formerà la muffa facciamo un intervento che io chiamo col braccino corto cioè ci limitiamo a tagliare un pochino la soglia riusciamo ad ammontare un po' la temperatura interna quindi già all'interno la temperatura un po' più alta e il ponte termico un po' più basso vogliamo risolvere davvero il problema il davanzale lo si porta via e lo si sostituisce con qualche materiale isolante che porti fuori l'acqua in questo caso ci siamo il ponte termico è ridotto al minimo e la temperatura interna quasi non risente del davanzale terza lettera all'alfabeto abbasso i controtelai metallici in particolare laddove sono presenti dei serramenti che prevedono il taglio termico ho speso un patrimonio per prendere questi serramenti della secco che hanno i due scafi di acciaio separati da due barrette da poliammide e poi ho pensato bene di ricostruire la continuità termica mettendoci un controtelaio in acciaio 40x20 dentro negato nella parete con tanta malta potevo evitarmi tranquillamente di spendere tutti i soldi per avere il controtelaio tagliato perché tanto comunque il calore passa da fuori laddove c'è un controtelaio in acciaio il ponte termico vi resta vi faccio notare questa foto che è questa termografia che è questo serramento in alluminio a taglio termico voi vedete che l'anta la parte interna dell'anta ha una temperatura compatibile con quella dell'ambiente interno il telaio che è pure lui a taglio termico che è pure lui è costato l'ira di dio per separare l'interno dall'esterno ha una temperatura di 5 gradi più bassa semplicemente perché dietro nel muro c'è una bella spalla di acciaio per cui il taglio termico del telaio del serramento non serve a nulla quarta lettera dell'alfabeto cassonetti simpatici simpatici i cassonetti dove c'è un cassonetto c'è un buco quindi dobbiamo pensare di andare a toglierlo il cassonetto va coibentato se si ha nei spazi sufficienti oppure va sostituito vi ricordo che per legge dovrà aspettare le stesse limiti di trasmittanza del serramento per quella zona climatica cosa vuol dire vuol dire che dovrò mettere 15 mm come minimo sindacale dentro nel cassonetto se lo voglio tenere 20 mm in zona E non sempre basta ce ne vorrebbero 30 vi sfido a trovare cassonetti esistenti in cui sia possibile infilarci 30 mm di spessore di isolante se davvero dovete rispettare le trasmittanze il cassonetto va nella generalità dei casi sostituito questa è la più bella il taglio termico della soglia della porta finestra dovrebbe raccordarsi col cappotto che c'è al piano di sotto se no resta un buco ovviamente questo significa che dovremmo demolire tutti i davanzali se c'è la continuità del getto dovrebbe demolire il davanzale fare tutto il cappotto e poi rimetterci i davanzali poi chiediamo a uno strutturista come farli star su però si fa così se voi andate a nord delle Alpi dove questo problema è più sentito e da più tempo sentito vi accorgerete che tutti i davanzali sono autoportanti cioè hanno la loro struttura esterna proprio per impedire il contatto termico tra davanzale e alloggio poi voi mi direte che su dopo le Alpi fa molto più freddo e avete ragione e questo è un motivo di progettazione se devo progettare una casa a elevate performance termiche e posso partire dal nuovo terrò ad avanzarli staccati il vero problema è che noi ci siamo siamo detti che dobbiamo lavorare sull'esistente ci sono delle soluzioni? sì, ce ne sono tre a prima si incapsula tutto il terrazzo sopra, sotto, di lato, davanti e dietro con un adeguato spessore di isolante a questo punto tutto il terrazzo diventa coibentato due, la più semplice si taglia, si demolisce il getto e si ricostruisce tre, facciamo il taglio termico per quanto si può sotto la soglia ora è evidente a tutti che la prima soluzione è impossibile dal punto di vista dei livelli se ho il pavimento interno già a livello col davanzare non posso metterci del coibente sul davanzare se no mi tiro dentro l'acqua la seconda, beh, sarebbe bello ma vorrebbe dire demolire tutto quindi è impossibile per quanto riguarda i costi la terza è tagliamo quello che si può adesso non ho tempo di farvi vedere tutte le simulazioni ma vi garantisco che è assolutamente inutile quindi lo potete anche evitare in buona sostanza questo problema sull'esistente ce l'abbiamo e ce lo teniamo a meno che non pensiate di voler demolire tutti i balconi sappiate che questo ponte termico ce lo teniamo domande? c'è qualcuno a casa che è svenuto? no? perché è una delle domande più ricorrenti è come facciamo a togliere il ponte termico dal balcone sei pronto a demolire? no, allora te lo tieni non c'è verso non è che ci posso mettere la pittura magica l'isolante, l'aerogel e quant'altro dimmi si? intorno? si si possono togliere le cose in molti comuni penso, non dico quasi la totalità ma impongono le cornici di pietra intorno alle finestre qui è un vecchio problema nel senso che c'è ancora adesso non credo che sia a parte che c'è la possibilità di sostituire gli elementi di pietra con elementi resinati che somiglino all'esistente è evidente che sono due esigenze contrapposte avere la pietra intorno alla finestra vuol dire avere il punto freddo intorno alla finestra punto e questo capita spesso di non poter mettere in atto tutto quello che vorrei mettere in atto per fare le cose belle e magari è anche un bene conservare dal punto di vista architettonico certe architetture piuttosto che trasformare tutto in cubolandia color pastello tutti uguali tutti bene però a questo punto dovrò imporre all'occupante dell'alloggio un certo stile di vita perché lì il ponte termico mi rimane lì il punto freddo rischio di averlo quindi o ci studiamo delle soluzioni particolari per togliere il punto freddo o dovrò avvertire l'occupante che lì dentro l'umidità non deve superare il 50% perché se mi supera il 50% lui va a rischio muffa se te lo dico subito c'è umidità e anche condensa sì sì appunto quindi deve tenermi deve tenermi l'umidità bassa per evitare di raggiungere il punto di condensa sul punto freddo gli darò una bella WMC per controllare l'umidità una ventilazione meccanica controllata per controllare l'umidità dovrò comunque ricordargli guarda che i serramenti che avevi prima spifferavano anche quando erano chiusi adesso ti vendo i serramenti nuovi quando sono chiusi sono chiusi l'umidità non esce più per cui già questo problema c'è già questo problema c'è esatto se poi tu mi dici architettonicamente devo tenere dei punti termici dei punti freddi è chiaro che l'avvertenza va ulteriormente rafforzata casa tua è bella però ha questi punti freddi intorno al serramento non è che fra sei mesi quando hai la muffa mi vieni a chiamare col tuo termotecnico che ha fatto la termografia e trova il punto freddo no guarda te lo dico subito ce l'ha il punto freddo prendiamo neato e gestiamola altra cosa laddove è possibile cerchiamo sempre di mantenere una battuta geometrica contro cui andare a appoggiare il serramento un giunto passante quindi una copiata passante dove il serramento si ferma a filo della parete è tutto più difficile non è che non si possa fare ma è tutto più difficile sia per quanto riguarda la tenuta all'acqua sia per quanto riguarda la tenuta acustica e noi non dimentichiamoci che qui parliamo sempre di termica ma alla fine dobbiamo tener conto del comfort complessivo per cui se la termica è perfetta ma poi mi rientrano tutti i rumori il cliente comunque non è contento penso di non aver detto nulla di nuovo e di inatteso forse al di là del fatto che è inutile tagliare la soglia del balcone perché quella non si può non si può correggere dimmi il tema di un ponte termico della facciata ventilata sì come parliamo ho sentito diversi pareri da dove c'è la sottostruttura in alluminio che va a ancorarsi ovviamente la mortuola ad esempio in paramano lì ovviamente c'è un ponte termico puntuale ho visto che viene risolto e altre volte no cioè voglio capire come si risolve e se è un ponte termico di cui ha senso risolto allora se è appena possibile interporre del materiale isolante tra la sovrastruttura e il muro sicuramente lo riduci di moltissimo poi non dimentichiamoci che è un ponte termico puntuale per cui il suo effetto complessivo non è così elevato ovviamente il lato interno se c'è un ponte termico per quanto sia complessivamente trascurabile rischia sempre di esserci un punto freddo il discorso di quella zanca di malta che ti ho fatto vedere prima poi alla fine in tutta la costruzione l'unico punto della parete che diventa scuro è quello lì e quindi poi si darà una colpa al ponte termico però basta interporre un elemento di separazione tra il piatto e la parete che di solito si riesce a togliere tipo una questione di teflon si ci mette una separazione grazie queste quindi sono giuste quattro considerazioni che vanno fatte per capire al volo davanti a un disegno di posa se sarà un disegno di posa che rischia di essere problematico o se invece posso andare avanti tranquillo c'è continuità nell'isolamento la soglia della porta della finestra l'ha tagliata la soglia della porta finestra non si può tagliare il quattro regole che non c'è il controllo metallico se c'è o lo tolgo o lo nascondo per bene in modo che non non abbia non abbia effetto sulla temperatura esterna perché poi non dobbiamo dimenticarci che ci sono due tipi di problemi problemi legati al fatto che l'agenzia delle entrate potrebbe scatenare Enea a fare i controlli a farci le pulci sui nostri calcoli e quindi poi a negare l'incentivo a cui il cliente aveva avuto diritto e abbiamo i problemi più seri della signora Maria che si incazza perché a casa sua si trova la muffa cosa cavolo le andiamo a raccontare dopo che le abbiamo fatto tutto l'intervento e salta fuori che c'è la muffa io vengo da Bergamo e i miei i miei colleghi i miei colleghi i miei colleghi muratori mi direbbero semplicemente vabbè sono cose che capitano sono cose che tutti lo sanno che quando si fa il cappotto poi si forma la muffa attenzione perché non è vero che il cappotto porta la muffa il cappotto porta la muffa se il cliente non è stato adeguatamente istruito e se nessuno vuole andare a controllare davvero le condizioni igrotermiche la verifica igrotermica è quindi necessaria non è nel momento né il luogo per stare qui a vedere come farla in dettaglio ma assicuratevi che nei vostri cantieri qualcuno abbia fatto la verifica igrotermica e quindi abbia garantito che non ci sono delle temperature tali per cui si può formare la muffa abbia utilizzato dei sistemi di montaggio tali per cui eviti che l'umidità si infiltri qui se l'umidità mi si infiltra nel punto davvero più freddo che è questo avrei umidità anche se dentro anche se dentro c'è un ambiente secco sull'esistente si fa quel che si può i miei amici bergamaschi dicono pota pota è successo ok quello che si può tutto quello che si può quindi si fa le verifiche di progetto si corregge tutto quello che è possibile e si contrasta quello che non è possibile evitare non dimentichiamoci che se ci va male faranno un controllo a campione su 100 dal punto di vista formale ma tutti e 100 i cantieri che andiamo a fare verranno controllati dall'utente qui abbiamo un controllo non a campione ma costante quindi riassumendo nelle liquidificazioni in presenza dell'occupante alcune soluzioni sono impossibili da attuare altre sono comunque complesse l'aspetto più innovativo del 110 è che finalmente una volta tanto prendiamo in considerazione tutto l'intervento cappotto più serramento e quindi dopo dieci anni durante i quali uno faceva il cappotto l'altro faceva il serramento e poi restava sempre lo zoccolo a metà dove nessuno si curava qui almeno è possibile parlare di interventi integrati quindi quando faccio un intervento integrato che prevede la sostituzione sia l'installazione del cappotto e la sostituzione del serramento posso pensare a 360 gradi di risolvere il problema perché ci sono delle norme da rispettare ma soprattutto ci sono delle aspettative da non deludere io mi immagino quanta gente si incazzerà dopo aver fatto i lavori se si trova la muffa in casa sappiate che se mi arrivano dieci telefonati per dei problemi sollevati dai clienti nove e mezza sono per colpa della muffa ormai sono anni che continuiamo a sigillare le abitazioni non riusciamo a far capire al cliente che produce comunque 6-7 kg di acqua tutti i giorni la deve allontanare era abituato a aprire una volta al secolo adesso invece gli dobbiamo dire che deve aprire quella casa deve areare il bagno non deve uscire dal bagno con la muffa con la nebbia sperando che poi se ne vada lasciandola migrare in camera del figlio l'acqua deve uscire all'esterno fatto sta che i problemi di muffa adesso cominciano i primi freddi io comincerò a ricevere le prime telefonate tranquilli il progettista deve fare le sue valutazioni per scegliere soluzioni più idonee e laddove non ci sono soluzioni può comunque avvisare il cliente che ci sono primo soluzioni impiantistiche secondo soluzioni di utilizzo per avvertire il cliente che comunque deve stare lontano da situazioni di rischio capire se ci saranno problemi non è difficile bastare vedere quelle cinque lettere dell'alfabeto che abbiamo visto prima poi qualcuno farà i conti per bene precisino per metterli dentro nella dichiarazione ma questo non ci interessa sul mercato ci sono tutte le soluzioni no non è vero non ci sono tutte ci sono le soluzioni per i problemi risolubili per i miracoli rivolgetevi altrove le vernici nanotecnologiche le vernici sono perte abbiamo tutti gli strumenti per fare le cose per bene facciamo ok ci sono domande allora io poliziotto cattivo che ha tirato fuori tutti i problemi lascio la parola a poliziotto buono che c'è le soluzioni buongiorno a tutti sono il poliziotto buono e quindi sono Arnaldo Finazzi lavoro in De Fabri dal 2006 e abbiamo ho la fortuna di rappresentare un'azienda che fa del controtelaio del suo core business già dal 1971 quindi è un'azienda che ha sempre lavorato in questo settore è in dubbio che in ottica 110 e dopo la presentazione dell'ingegner Tisi è in dubbio che i problemi nella riqualificazione energetica sono tanti e bisogna rendersi conto che non tutti sono risolvibili e per poterli risolvere la logica è sempre quella del compromesso faccio il pari al problema vero che spesso viene sollevato del taglio della sodia della porta finestra con un terrazzo un balcone all'esterno quello è un problema che c'è allo stato attuale e ci sarà domani mattina dopo l'intervento perché l'unica strada percorribile è quella di andare come diceva l'ingegner Tisi andarlo a rifoderare completamente ma non è possibile perché avrei un problema di piano esterno più alto di quello interno oppure andare decidere di privarmi del terrazzo del balcone esterno e quindi montare un parapetto a filo della finestra ed è una porta finestra che in realtà svolge la funzione soltanto della finestra detto questo le soluzioni come vi dicevo ce ne sono ne abbiamo studiate e le abbiamo studiate in considerazione di un aspetto fondamentale che è quello che l'intervento di riqualificazione di un condominio non può prescindere dal fatto che comunque la gente continuerà a vivere all'interno dell'edificio quindi l'obiettivo che noi ci siamo dati e tutti i prodotti che vi faccio vedere in mattinata partono dal presupposto che avendo le persone in casa devo rendere possibile la separazione dell'intervento di riqualificazione energetica dall'esterno quindi andando a coibentare la parete esterna e successivamente la sostituzione del serramento interno nel caso specifico la soluzione è T quadra nella versione avvolgibile che è la tra grande maggioranza poi degli interventi che vengono fatti sui condomini questa soluzione permette di andare a coibentare i due montanti e il traverso superiore della finestra o della porta finestra viene poi ancorato sul lato esterno con delle staffe quindi il fissaggio viene fatto meccanicamente utilizzando delle viti anche qui facendo il pari un po' alla domanda di prima della parete ventilata se uno volesse evitarlo interpone del materiale isolante tra la staffa e la muratura e rimane l'eventuale ponte termico della vite che entra all'interno del muro però anche qui c'è da razionalizzare la cosa che non possiamo estremizzare di andare a vedere poi il particolare della vite perché ci sono altri problemi da risolvere l'altro vantaggio è che dovendo poi andare ad installare un infisso che come abbiamo visto per quanto performante lo possa scegliere se però non ho l'idoneo supporto di un controtelaio che non sia un controtelaio metallico all'interno della struttura vanifico un po' l'effetto quindi in questo caso c'è la possibilità di andare in appoggio sull'eventuale serramento che andrà sostituito e risolvere fondamentalmente anche il problema di una più corretta posa e di isolare il serramento anche se fosse un serramento in ferro o in alluminio da quello che è la conducibilità che può avere all'interno dell'abitazione una cosa molto importante è che in ottica 110 va fatta una valutazione preventiva di quella che è la soluzione che io andrò ad adottare perché devo rendermi conto se è fattibile o meno il superamento delle due classi energetiche a livello di azienda noi abbiamo inserito e creato una scheda di calcolo che fondamentalmente riassume quelli che sono i valori di trasmittanza il valore lambda dei singoli materiali che la compongono e abbiamo fatto una simulazione su una muratura X con un cappotto X con un serramento Y questo perché perché si voleva dare un'indicazione generale perché logicamente poi deve essere valutata nei singoli casi di intervento per avere la bontà o meno del tipo di intervento assieme a quello è disponibile anche il DVG per cui lo inserisco all'interno del mio progetto faccio un calcolo degli elementi finiti e riesco a stabilire se questa soluzione è idonea o meno la soluzione del serramento abbinato adiacente alla guida dell'avvolgibile è una soluzione che porta con sé il problema che comunque una guida è una guida in alluminio quindi va in appoggio l'estrema vicinanza della guida al serramento non mi dà una grande prestazione c'è la possibilità di separare questa guida sì la si può separare con quest'altra soluzione sempre del prodotto T quadra che mi permette appunto di andare a coibentare anche qui tutti e tre i miei lati ma di staccare la guida dal mio serramento logico che in questo caso devo avere o una situazione preesistente che già simula questa situazione oppure devo fare contestualmente sia la posa del mio controtelaio monoblocco sia la posa del serramento perché cambierà la posizione rispetto allo spessore del muro anche qui sempre con quelle staffe avendo l'accortezza nell'eventualità di interpolare il materiale isolante e con la possibilità di avere ok di avere anche qui poi un profilo in pvc dove ha una sua scanalatura per la posizione di una guarnizione autoespandente che mi permette di realizzare la corretta posa anche del nuovo infisso che andrò a posare come sopra la stessa cosa anche qui disponibilità di dvg e di una scheda di calcolo che mi permette di fare una valutazione preventiva della soluzione quando cambiamo e come è stato detto anche dall'ingegner Tisi quando ci cambiamo fondamentalmente la soluzione della finestra molto spesso non si tiene conto del cassonetto vi dico non si tiene spesso conto perché normalmente andare a toglierlo e andare a coibentarlo non è un'operazione così tanto facile ma va da sé che il valore totale è direttamente influenzato dal cassonetto della volgibile quindi in realtà diventa un obbligo il fatto di andare a coibentare per poter ottenere una prestazione sia acustica che termica che sia soddisfacente per questo noi abbiamo realizzato un cassonetto che si chiama salvacaldo che è fondamentalmente un cassonetto realizzato con 5 cm di EPS perché in tutte le sue parti perché come diceva prima l'ingegner Tisi in alcune zone con 2 cm non è sufficiente bisognerebbe arrivare a 3 ma l'ottimo per ottenere un risultato è quello di avere 5 cm di EPS è resinato sul lato interno quindi lo si può tranquillamente tinteggiare della stesso colore dell'infisso piuttosto che andare a rivestire con carte da parati o con altre cose le soluzioni sono state create sia per l'infisso a filo muro che per l'infisso a centro muro cosa cambia tra le due soluzioni perché la parte che è in aggetto rispetto al filo della parete interna è comunque la medesima cambia fondamentalmente la parte sottostante ovvero il celino che diventa un elemento di tamponamento semplice quando ho la soluzione filo muro diventa invece un elemento di coibentazione quando vado a centro muro perché la parte dal serramento al filo interno della parete deve essere appunto opportunamente coibentato come tutto il resto del cassonetto in questo caso non parliamo più di valutazioni e quindi di mettere all'interno del mio progetto il cassonetto ma in questo caso parliamo di certificazione perché è uno dei pochi elementi in tema di controtelaio o di monoblocco che è possibile certificare è sempre e solo il cassonetto molto spesso mi viene chiesta la certificazione dell'intero monoblocco sappiate che la certificazione dell'intero monoblocco è un'utopia ancora oggi perché non esiste nessuna norma che detti le regole di come poterlo certificare quindi in realtà tutto ciò che viene definito come certificato sono delle prove in laboratorio che nascono e finiscono lì servono fondamentalmente ma come facciamo spesso sui nostri prodotti per avere una valutazione se stiamo andando nella direzione giusta o nella direzione sbagliata ma non esiste una certificazione per quanto riguarda il prodotto controtelaio continuando se a fianco degli avvolgibili abbiamo anche le soluzioni con gli scuri esterni in questo caso la realizzazione viene fatta con un prodotto che si chiama T-quadra blocco che ha delle caratteristiche particolari porta con sé le stesse identiche analogie cioè quindi la coibentazione dei tre lati della mia finestra c'è sempre una staffa di fissaggio che in questo caso non serve soltanto a tenere in posizione la spalla ma aiuta e collabora con il blocchetto dove verrà inserito poi il cardine per eventuali per il mantenimento della stabilità del cardine sulla struttura muraria e anche qui c'è sempre una guarnizione poi un profilo in PVC che è poi sede per quanto riguarda la guarnizione autoespandente una cosa interessante è che questa soluzione nasce con un vincolo che è un cappotto minimo in facciata di 12 cm questo per un problema di tenuta dei blocchetti perché il prodotto e la tenuta del blocchetto è certificata in questo caso e l'altra cosa interessante è che nel momento in cui riesco a realizzare 12 cm di cappotto in facciata che è ormai abbastanza in uso anzi addirittura si arriva a 14 cm di cappotto nelle riqualificazioni energetiche mi permette anche di poter alloggiare l'eventuale predisposizione della motorizzazione dell'oscuro in molti casi a seguito di successive ristrutturazioni degli alloggi davanti alla finestra della cucina mi è comparso il lavello faccio fatica a poter aprire e chiudere la persiana all'esterno per cui ho anche questa possibilità di andare a coibentare anche qui come vi dicevo per tutti gli altri prodotti c'è sempre la possibilità di avere questa scheda di calcolo e il dvg blocco è una soluzione che può essere d'aiuto quando i tempi stringono quindi devo fare un intervento molto veloce perché in questo caso è un prodotto tra virgolette standard con determinati tipi di spessori del cappotto tra i più comuni vado a inserire praticamente questo cappotto e questo mi permette anche nell'eventualità di un non rifacimento degli scuri esterni di poter rialloggiare gli stessi dentici scuri in facciata una cosa interessante è che questo sistema blocco con un cardine che è un cardine che viene fornito sempre da noi è stato testato in laboratorio e quindi abbiamo anche la valutazione dei carichi che può sopportare esiste a fianco dello scuro a fianco dell'avvolgibile anche la classica finestra che è priva di un sistema oscurante esterno nel caso in cui fosse priva di uno oscurante esterno anche qui abbiamo realizzato una soluzione logicamente molto più semplice perché riguarda semplicemente la coibentazione del foro finestra non c'è nessun elemento oscurante all'esterno per cui il concetto rimane invariato e anche qui abbiamo sempre la disponibilità di una scheda di calcolo in un DWG per andare a fare le opportune valutazioni se parlo dell'esterno nell'ottica del 110 siccome questo 110 porta con sé anche la voglia e la volontà di riammodernare gli edifici la possibilità su quella che è la classica finestra a tre battenti piuttosto che a quattro battenti di trasformarla magicamente in un alzante scorrevole e di usare un frangisole sul lato esterno anche qui noi abbiamo realizzato un controtelaio che permette di creare il vano per la predisposizione delle guide piuttosto che del pacchetto dell'impacchettamento del frangisole e quindi farlo scomparire all'interno del cappotto realisticamente su un cappotto che sia inferiore a 16 cm è un'operazione molto difficile da fare perché tenete conto che soltanto lo spazio interno del cassonetto deve essere 13 cm normalmente per un frangisole quindi diventa un cappotto molto importante anche qui il cassonetto può essere coibentato o non coibentato a seconda un po' delle caratteristiche e il sistema di fissaggio è simile a quelli che abbiamo visti prima e l'alloggiamento della guida però c'è sempre quel problema e quella spada di Damocle che è la soglia della porta finestra e il davanzale della finestra allora sulla porta finestra il problema come abbiamo visto è praticamente non risolvibile sulla finestra in realtà il problema è risolvibile come? Io facendo una riqualificazione energetica devo comunque andare a aumentare lo spessore della facciata esterna quindi è fuori dubbio che per quanto mi limiti a fare un intervento devo comunque allungare quella che è la soglia il davanzale esistente della finestra perché comunque risulterebbe corto nel momento in cui vado ad attaccare un altro pezzo di marmo o di granito o di qualsiasi altra pietra con cui ho realizzato quello esistente comunque vado semplicemente a rivestire quella parte che mi manca ma non ottengo nessun beneficio noi abbiamo realizzato cover che è fondamentalmente materiale isolante rivestito da una lamina in alluminio che posso verniciare di qualsiasi colorazione RAL questo mi permette di ottenere sia l'allungamento del davanzale esterno ma di ottenere anche il vantaggio di andare a coibentare senza dover tagliare quella che è la soglia interna quindi vado a crearmi a sovrapporre a quello esistente una soglia coibentata con materiale isolante rivestita in alluminio posso scegliere tutte le colorazioni che voglio a volte vengono scelti anche dei colori molto particolari per poterli abbinare magari a un rinnovamento anche dell'estetica di quello che è l'edificio questo mi permette come vi dicevo appunto di ottenere sicuramente dei benefici a livello termico e contemporaneamente anche allungare quello che è il davanzare della mia finestra una cosa importante è che il nome cover da l'assonanza alla cover di un telefono come non posso pensare di usare una cover di un iPhone su un Samsung altrettanto vero la cover deve essere adattata una situazione esistente per cui che sia un prodotto rettangolare quindi con le teste piatte piuttosto che abbia invece i due baffi laterali perché deve mantenere una sporgenza viene realizzata in funzione delle caratteristiche che servono altra caratteristica e altro vincolo è che la parte frontale cioè la parte che rimarrà in vista frontalmente di cover è sempre un centimetro più grande rispetto alla parte in appoggio perché viene creato un rompigoccia per evitare che l'acqua piovana colie e mi segni la facciata in corrispondenza appunto quello che fa un po' il taglio del rompigoccia sul davanzale in marmo anche qui sempre scheda di calcolo e di VG per fare le valutazioni è tutto molto bello perché molto spesso ci sono le soluzioni ma diventa abbastanza complicato reperire tutta una serie di informazioni molto spesso ci si limita a chiamare poi mandami una mail e in realtà mandami una mail la mail non viene mandata oppure viene mandata parzialmente ma non è tutto quello che avevo bisogno avevo bisogno anche del DVG pensavo che ti servisse solo l'altra i soliti problemi che succedono noi a livello di sito internet abbiamo inserito nell'area clienti la possibilità di scaricare sia quelle che sono le schede di calcolo quindi quella simulazione di calcolo che abbiamo fatto con i valori ma sia il DVG vi chiediamo fondamentalmente un'iscrizione mettendo una mail e quindi facendo il minimo necessario per poter avere i vostri riferimenti ma da quel momento lì in poi avete la possibilità di poter accedere al sito e portarvi a casa quelle informazioni che possono essere necessarie in fase di progetto c'è anche una voce di capitolato che non è il caso specifico ci sono anche dei confronti con il prezzario dei anche se voi sapete che il prezzario dei è un volume enorme di componenti che spesso e volentieri non si usano più e mancano però esattamente quelli che servono per cui in realtà anche lì è veramente una lotta impari altra cosa importante con la quale ci siamo trovati a combattere molto spesso con l'ingegner Tisi è il discorso dell'utilizzo dell'edificio dopo l'intervento perché è indubbio che un edificio sigillato porta con sé il fatto che all'interno dell'edificio rimane non soltanto il caldo che era l'obiettivo o comunque o il beneficio dell'acustica ma contemporaneamente tutto ciò che produco in casa rimane in casa noi eravamo abituati a una ventilazione non meccanica e neppure controllata perché avevamo un seramento che spifferava un cassonetto che spifferava e quindi tutto questo comportava una reazione che non percepivamo se non col movimento del tendaggio davanti alla finestra in realtà abbiamo sigillato tutto e quindi abbiamo bisogno di utilizzare l'alloggio in un modo completamente diverso rispetto al primo questa cosa non è stata sufficientemente spiegata all'inizio del concetto della riqualificazione energetica degli edifici o comunque quando abbiamo iniziato a costruire edifici che avevano efficientemente cioè energeticamente efficienti perché non l'abbiamo spiegata perché in realtà ci siamo occupati in una prima fase di come fare a sigillare tutto l'edificio ma non abbiamo tenuto conto che non ottenevamo soltanto il vantaggio di tenere il caldo in casa in casa rimaneva tanto altro materiale io spesso negli anni mi sono trovato ad entrare in case completamente tappate con stendini colmi di indumenti ad asciugare e robe del genere tutto questo concorre a creare una percentuale di umidità all'interno dell'alloggio enormemente grande oltre al fatto che comunque tutti quanti ci facciamo una doccia in casa tutti quanti viviamo in casa e quindi anche il semplice vivere porta alla creazione di un'umidità all'interno dell'alloggio quindi è importante il fatto che la ventilazione meccanica controllata non venga vista come la risoluzione è un problema ma come un sistema integrato nell'efficientamento energetico dell'edificio perché le due cose non sono separabili io ho il grande vantaggio di avere una casa oggi performante che mi permette di vivere con una qualità molto migliore ho un impatto minore economicamente sul riscaldamento ho il vantaggio che il pullman che prima sentivo dall'inizio della via oggi non lo sento neanche se si ferma sotto la finestra ma devo rendermi conto che questo beneficio ha generato anche il fatto che devo utilizzare la casa e devo dotarmi di strumenti che mi aiutino a vivere la casa in un modo diverso d'altronde faccio il pari con le automobili il vecchio 127 con cui ho iniziato a guidare aveva il grosso vantaggio che la ventilazione e l'aria girava in tutti i modi possibili oggi con l'equivalente di una Fiat adesso non mi viene l'ultimo modello ma la 500 è indubbio che se paragono le due 500 sono macchine completamente diverse oggi il sistema tra virgolette paritetico di WMC all'interno delle macchine è imprescindibile perché parte ruotando la chiave di accensione e sono obbligato io a spegnerlo se voglio ho ottenuto il vantaggio certo la macchina è molto più insonorizzata il caldo si riscalda molto prima ho un sacco di vantaggi ma porto con me anche un altro strumento aggiunto che parte assieme alla macchina che mi permette di fare in modo di tenere monitorato l'umidità all'interno della macchina l'edificio è uguale non cambia di una virgola quindi dobbiamo renderci conto che il sistema di ventilazione meccanica controllata non è più e non deve essere visto come la risoluzione ha un problema ma è vista in fase di progetto come un sistema integrato perché uno non può stare senza l'altro per cui al di là che ci siano sistemi biflusso come quello che vedete quindi un ramo di ingresso è un ramo di estrazione con diverse efficientamenti efficienze in funzione della velocità e quindi più veloce va più scambia e quindi logicamente più veloce va la macchina più volumi cambia meno performante è il recupero del calore va da sé è una cosa molto logica assieme a questo ci sono anche poi le quelle che chiamiamo le monoflusso ovvero quelle che attraverso una semplice carotata all'interno del muro hanno un'inversione di rotazione della ventola al loro interno che mi permette di avere circa un minuto nel caso specifico 70 secondi in estrazione c'è uno scambiatore ceramico che viene riscaldato dall'aria in uscita quando la macchina inverte il flusso l'aria fredda entra viene preriscaldata da questo scambiatore ceramico e arriva in casa a temperature più alte questo però denota anche un altro aspetto che nell'ottica di all'efficientamento energetico aprire semplicemente le finestre di casa è un po' un assurdo perché ho fatto tutto per sigillare la casa per fare in modo di tenermi la casa dentro e se faccio come mia mamma che apriva alle 7 del mattino e chiudeva alle 19 di sera e c'era in inverno e non si riusciva a togliere la coperta perché era completamente ghiacciata dalla brina in realtà questo non è non ha logica nel concetto dell'efficientamento energetico l'efficientamento energetico è anche quello di poter cambiare l'aria interna ma senza dissipare tutto il calore che ho generato all'interno attraverso il sistema di riscaldamento e dopo questo mio sermone la faccio un po' più semplice allora De Favri come vi dicevo quest'anno compie 60 anni dalla fondazione ed è 50 anni che si occupa dal 71 e lo so bene perché sono di quell'anno di controtelai quindi mi è molto facile fare il conto basta guardare la carta di identità 60 anni c'è stato un avvicentamento negli ultimi due anni da Luigi De Favri alla figlia Antonella e questo ha portato alcune novità perché l'azienda si è molto sviluppata nonostante l'anno di covid siamo solo un po' in ritardo sulla tabella di marcia come lo siamo un po' tutti a seguito di quello che è successo però è un'azienda che sta crescendo molto siamo diventati grandi tre volte fondamentalmente perché a livello di unità produttiva siamo passati dai 3.000 ai 9.000 metri coperti quindi è un'azienda che nella seconda giovinezza dopo i suoi primi 60 anni nei prossimi 60 anni ha deciso di investire molto quindi in innovazioni in tecnologie in macchinari e anche in struttura una cosa importante però che questa è figlia del nostro fondatore Luigi De Favri è che c'è una frase che ha un senso al di là di un concetto che noi italiani molto spesso ci obblighiamo a fare qualcosa dopo aver una norma o una legge che ti obbliga a farlo in realtà nella visione della famiglia che è la proprietaria di De Favri c'è la visione di pensare a un futuro che sia sempre più sostenibile per cui noi da tanto tempo stiamo utilizzando materiale che sia o riciclato o riciclabile e l'abbiamo cercato tenendo conto di poter dare la garanzia al nostro cliente di avere la tracciabilità del materiale dalla piazzola ecologica per darvi un'idea fino ad arrivare al prodotto realizzato per cui in ottica di cam noi tutto il materiale isolante che utilizziamo è conforme alla percentuale cam anzi oserei dire che è anche superiore alla percentuale cam che abbiamo all'interno del prodotto e un'altra cosa importante è che noi da fine anno saremo in grado di produrre attraverso fonti rinnovabili quindi la filosofia dell'azienda non è un green sbandierato e messo su un dappian ma è proprio una vocazione dell'azienda quella di essere sostenibile a questo punto e avendo il piacere e l'onore di rappresentare tutta la gente che lavora in azienda e che non va mai dimenticata perché siamo una squadra e tutti hanno il loro compito e tutti assolvono magnificamente a questa a nome di tutta la squadra che rappresento vi ringrazio dell'attenzione grazie grazie grazie